Ciao ragazzi, ciao a tutti, un saluto da Calcio Toro. Oggi, secondo video di giornata dopo quello recap di Calcio Mercato fatto uscire pomeriggio dopo pranzo. Dunque, di che cosa parliamo adesso di preciso? Parliamo del Calcio Mercato Granata. Finora sono arrivati tre acquisti, sotto il punto di vista delle cessioni siamo veramente molto indietro. Per ora l'unico giocatore sicuro di partire è Ola Aina, escluso lo svincolato Lorenzo De Silvestri, che ovviamente, come abbiamo ripetuto più volte, si unirà al Bologna di Sinistra, Mijajlovic. Ma in entrata ancora nulla. Si è bloccati, ci si è pissati su questo pallino Torreira. Cairo parla di altri giocatori, altre opportunità che possono essere vera, Biglia, Badel. Non si sente traccia, non si sente traccia, cioè non si sente traccia, non si sente niente a riguardo degli obiettivi a cui stiamo puntando. Francamente, tutta la situazione sembra essere in stand-by. Il campionato inizia il 19 settembre. Sono state giocate tre amichevoli e io direi che si possono tirare un po' le somme. Poi chiaramente manca l'amichevole colcomo e quella con la Sampdoria, che sicuramente possono dirci qualche informazione in più, ma qualcosa ci è stato lasciato. Ci è stato lasciato la prima amichevole con il Novara, segnali molto positivi. Quella con la Propatria, segnali meno positivi. E quella con la Provercelli, dove abbiamo visto delle lacune paurose, delle seconde e terze linee che sono da Serie C, se non peggio, ragazzi. Dunque, partendo dal presupposto che sono stati evidenziati due punti. Anzi, secondo me, a dirla tutta, tre. Tre punti. Manca un play, un play basso, perché Rincon non può fare il regista. Certo, nelle dichiarazioni Cairo parla di un Rincon che ha già giocato il regista, di un Giampaolo che è contento di avere Rincon in quel ruolo, di Rincon, quando parla, dice che comunque ha già giocato il regista in passato, che può farlo il ruolo. Per me, no. Non ha i piedi, non ha le caratteristiche. Rincon, lo ripeto, è un incontrista. Non è un giocatore da 4-1-2, dove il rombo di centrocampo è fondamentale, servono giocatori di qualità più che di quantità. Poi, se si hanno entrambe le caratteristiche, come Praet, per esempio, meglio. Detto ciò, Rincon non è adatto, chiaramente, quindi andiamo a peccare di qualità nella fase di impostazione, soprattutto. Certo, per questo motivo è saltato fuori il nome di Torreira. Sì, ma Torreira non sta arrivando. Non sta arrivando, e per quanto possa essere lunga una trattativa, io faccio veramente fatica a vedere Giampaolo iniziare il campionato con Rincon regista. Sarebbe veramente molto grave, e per me va chiusa in fretta una trattativa per un regista e per un play basso. E lo stesso discorso, arrivando al secondo punto, vale per il ruolo del trequartista. Il terzo è più una considerazione mia personale, ma ve la faccio dopo. Secondo punto, il trequartista. Serve un play là davanti. Non abbiamo un giocatore con i tempi giusti, Jacofalke e Berengher sono assolutamente inadatti, Jacofalke è un giocatore che può giocare solamente in un tridente, nella posizione di alla destra per rientrare e calciare col sinistro. Sa usare solo un piede. Non ha sicuramente i tempi per fare il trequartista. Non ha la visione di gioco. Poi dovrebbe venire un po' incontro a centrocampo. Secondo me non ha le caratteristiche neanche per fare questo. Non è un giocatore a cui si può richiedere comunque di tornare, di aiutare la squadra dietro. E Berengher tanto meno, per quanto si possa essere un giocatore duttile, eccetera. Per me uno è un mediocre, due sul punto di partenza e tre penso che Gianpaolo non ne voglia usufruire più di tanto. Comunque iniziare la stagione con un rombo, con Berengher trequartista, quindi creatore principale dopo il play di gioco, sarebbe abbastanza imbarazzante onestamente. Detto ciò non si sta puntando a nessuno, non si hanno voce, non si ha nulla. Certo la società è brava a lavorare sotto traccio, ce l'ha dimostrato spesso negli ultimi anni, ma torniamo sempre sul punto delle tempistiche. E qua non è questione di non potere, è questione di non volere, ragazzi, attenzione. E io sono molto restio nei confronti della società, sì, sono anche molto critico, però vorrei far notare che comunque quando sono arrivati i tre acquisti, abbiamo comunque iniziato a movimentarci sul calciomercato, io ho elogiato l'operato di Cairo. Adesso non mi sento ancora, insomma, in dovere di bocciarlo, ecco, addirittura di dare un'insufficienza, anche perché tre acquisti e tre ruoli fondamentali adesso sono coperti, più o meno. Però manca qualcosina, manca qualcosina, il campionato è alle porte. Inizia il 19 settembre, tra l'altro apre proprio il Torino a Finenza contro la Fiorentina al Franchi, dove non vinciamo dal 78 giù di lì, anche meno forse, non mi ricordo di preciso, quindi non scannatemi nei commenti, anzi correggetemi in caso. In ogni caso, ragazzi, beh, la questione è che è grave, è grave, è grave. E non ci stiamo movimentando al riguardo. A me piacerebbe anche un João Pedro, per dire come terquartista, ma Gaston Ramirez, ma qualcuno deve arrivare. Giocatori funzionali a Giampaolo, sicuramente, buoni nel 4-3-1-2, ma io mi sbrigerei fossi in Cairo. E poi, secondo me, il terzo punto che bisogna trattare, fondamentale, è il ruolo della mezzala, perché secondo me non basta Linetti, andrebbe presa anche una seconda mezzala, che può rispondere al nome di Praet, può rispondere al nome di Kurtich, per dire anche per me, ma l'importante è che arrivi una mezzala che sappia alternare bene le fasi di gioco, che sappia sfruttare bene gli inserimenti offensivi, sappia inserirsi tra le mine, serve un giocatore di questo tipo. Servono giocatori di questo tipo e per me ce ne manca ancora una. Non arriverà mai, mentre play e trequartista spero di sì, e se non arriveranno né play né trequartista, o se non arriverà uno dei due, io darò un'instruzione al calciomercato, perché come al solito si completa la squadra a metà. Detto ciò, incideranno anche le tempistiche, comunque io sono molto critico, ragazzi, a questo punto mi faccio qualche domanda, però massima fiducia a Cairo per l'ennesima volta, per la quindicesima volta, sul calciomercato, e vediamo un po' come andrà a finire. Detto ciò, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video, condividetelo con amici, fratelli della comunità Granata, facciamolo crescere un po', e seguitemi su Instagram, chioccio la calciotoro, ci vediamo al prossimo video. Sempre Forza Toro, ciao ragazzi!